Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Da giorni si parla del presunto ritorno al single di Belen Rodriguez a causa di Stefano De Martino, ma il suo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, è intervenuto per smentire queste voci. La showgirl argentina sembrava molto innamorata di Galvano, definendolo l'uomo che aspettava da tempo, sensibile e concreto. Galvano ha confermato la continuità della loro relazione, nonostante la sua riservatezza. La conferma della relazione tra Angelo Edoardo Galvano e Belen Rodriguez è arrivata tramite un commento su Instagram sotto una foto postata dalla showgirl. Galvano ha chiesto i crediti per le foto, evidenziando che sono state scattate da lui, e ha taggato Belen Rodriguez aggiungendo un cuore rosso. Ha conferma che, tra loro, le cose vanno bene. Le voci sul presunto ritorno al single di Belen Rodriguez per Stefano De Martino sembrano quindi smentite dal gesto di Galvano su Instagram, che conferma la solidità della loro relazione. La showgirl argentina sembra quindi ancora legata al suo attuale fidanzato, nonostante le speculazioni sulla sua vita sentita.